di lì è meglio aiuto 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 allora questa coppa c'è l'esprisci grinto tu ma che scivolosissimo l'esprisci grinto l'esprisci grinto che si è curato no dai 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 oh la la chi è da qualcuno ha imparato lascia glielo eh e chi è bravo eh Vito l'altra volta dove sono caduto sono caduto qua ho fatto questo no gli ho dato al secondo per saltar via per un lì mi sei incuzzato in quello ho fatto una toma della madonna allora cioè non è che possiamo sempre andare a mano dai ogni tanto anche qualche gioia ogni tanto su senta sì grazie uno due vai ok grazie sono caduto anch'io l'altra volta no lascia glielo eh lasciarlo devi farlo giusto uno due ecco la ticciula il bastardo è bastardo quello lì perché si sposta bravo bravo e anche il tronco e anche il tronco è andato no no andiamo là no no andiamo là la serpente ascolta bravo e anche il tronco è andato non andiamo a anche il tronco è andato bravo e anche il tronco è andato non andato è andato ai 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 e la tecnica tecnica del dondolo scarica un po' il culo, bravo e il Grazie.